ciao ragazzi oggi qui stasera è un coglione già li spezzati allora spezzeremo questi cosi che quando gli spezzi si illuminano sono 1 2 3 sono 30 li spezziamo tutti guarda arcobaleno omosessuali mangiare le patatine di mia figlia il bastardo ma non ti vergogni cosa senza glutine con la sorpresina con le principes è un piccolo bastardo ok il mio ok adesso ci andiamo a mangiare un panino dal porchettaro abusivo no dal porchettaro regolare ok ok andiamo ok dopo le cazzate con il light stick eccoci qua auguri dal turco napoletano a mangiare patatine e la birra arrivano pure i panini è un grande locale e faccio certi panini esagerati qua c'è pure la mia pubblicità guardate sta pure laggiù aspettiamo i panini abbiamo anche la tazza piccante si scrofa il panino io ho quasi finito il mio siamo fatti una peroni burra la burra birra del muratore una è un'altra in procinto di essere consumata qua sto io il residuo del panino di mio coniato è più grande il panino che ho mangiato io ti arrende ti arrende non è il record non è il record rinuncia rinuncia da fai uomo è Cipo! vince il Cipo! vince il Cipo vince il Cipo vince il Cipo eda aspettando ho getta la spugna ad man or cedar il video è partito e video ok ragazzi adesso è fascita e sclero quello che prima ha fatto di mio cognato adesso lo faccio io andrò con queste mazzarelle luminosa in mezzo alla strada Allora mio cugnato mi ha chiesto inizier a riprendere Ma lo stai riprendendo? Questo è un bicchiere con dentro degli alcolici E' un B52 Ma perché un cucchiere così? Luca perché un cucchiere così? Ma non lo so perché questo è per miscelare No dico perché il cucchiere è al contrario E' per fare effetto fondanello E' carinissimo Allora accendipelo Beh vai vai Cuoco Beh Non parte Non parte Non parte Non prende Non prende Un B52 sola Oh io voglio il fuoco 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 In un'impresa unica Si proprio lui Proprio io Si con i baccialetti del potere Ok Guardate queste imprese uniche Ma anche Belgrilz Ha mai fatto una cosa del genere Belgrilz Guardate Ma che c'entra quello che c'entra? Non lo so che c'entra Belgrilz Ok ragazzi adesso mi fianderò lungo questo scivolo E non morirò 3 2 1 Impresa riuscita Ok ragazzi per concludere la serata Lascerò questi braccialetti del cazzo Da qualche parte Seguimi Dai braccialetti del cazzo Andiamo Braccialetto del cazzo Non inquinare Non inquinare Numero 1 Aiuto Stavo morendo Non inquinare Ah si Lì devo inquadrare Poi il braccialetto del cazzo Numero 2 Allora ci mettiamo 2 Luca ma Io lo conto come inquinamento questo Ok Braccialetto del cazzo Numero 3 Questo facciamo così Ah qui guardate Mi state guardando? Si lo sto riprendendo Ciao 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 Ciao